Ultime due giornate di campionato nel girone D di prima categoria abruzzese. Torneo che si avvia a definire le ultime griglie, partendo da due assunti di fondo. La vittoria del torneo della nuova Sant'Egidiese, che ha messo in riga la concorrenza con grande anticipo e con la testa è già proiettata al prossimo torneo, dopo averne vinti tre consecutivamente. Poi c'è la retrocessione già acclarata dell'Insula Falchi, capace di raccogliere appena 15 punti in 28 gare di campionato. Sant'Egidiese che nell'ultima settimana ha rallentato la sua marcia, ma è altrettanto normale allentare la presa dopo aver battuto tanti record, soprattutto nella prima parte di campionato. La squadra giallorossa in ogni caso vuole chiudere bene la stagione. E c'è da giurarsi che nell'ultima interna di campionato, con i pericolanti e i bisenti, vorrà chiudere davanti al pubblico amico con un successo. Per quanto concerne i colori giallorossi, mente è già proiettata verso il prossimo campionato di promozione, visto che la dirigenza ha progetti ambiziosi anche nel prossimo campionato. Celebrata ovviamente la nuova Sant'Egidiese, il torneo ha in ogni caso diverse cose da dire. In zona play-off, ma anche in zona salvezza. Per quanto concerne i quartieri nobili, l'Atletico Lempa è saldamente al secondo posto, anzi, gli uomini guidati da settembre hanno un duplice obiettivo, mantenere la piazza d'onore e cercare di bypassare il primo turno dei play-off. Il crocevia potrebbe esserci domenica prossima. In programma, infatti, c'è il Real Treciminieri Atletico Lempa, rispettivamente quinta e seconda della classifica. Attualmente la Lempa ha 11 punti di vantaggio sugli avversari. Obiettivo è mantenere il distacco per arrivare direttamente alla finale play-off. Obiettivo contrapposto per gli avversari, che vogliono accorciare le distanze. Domenica di fronte anche Casoli e Miano, rispettivamente terza contro quarta. In zona bassa sono già certe dei play-out Bisenti e Toranese. Vanno individuate le altre due formazioni che si giocheranno la salvezza negli spareggi. Torricella, Cellino e Albanova divisa in classifica da tre punti. Solo una delle tre potrà salvarsi direttamente e questo testimonia la battaglia che potrà esserci negli ultimi 180 minuti della stagione regolare. Già salvo il Favale, invece, che potrà giocarsi le ultime due di campionato senza particolari apprezzioni.